E bentornati in questa bellissima puntata di Arte Settima Podcast Eccoci qua, eccoci qua Bellissimo Bellissimo, subito, partiamo così Allora io ho insistito perché ci portassero Vinicio Capossela Invece mi hanno detto guarda viene questo ragazzo che gli assomiglia Però è anche il fratello di Zino E quindi abbiamo detto che c'è un nesso secondo te fra le due cose Fra il fatto che sia mio fratello e il fatto che sia seduto di fronte a me in questo momento E che non sia Vinicio Capossela Tra l'altro il nome è un anagramma di Vinicio Capossela E infatti vedi l'intrigo c'era Ma Andrea è qui perché oggi facciamo una puntata particolare Raccontaci perché facciamo una puntata particolare Perché sei qui? Perché diamine sei qui? Ma il tuo nome non è un anagramma di Vinicio Capossela Volevo lasciarvi riflettere su quello mentre facevo la mia introduzione Speravo di balagnare qualche secondo in più Grazie di avermi a questo tavolo Grazie di avermi concesso di tornare Nonostante le mie dichiarazioni l'ultima volta Terribili Soprattutto su di voi fuori onda Mi ricordo Però ci siamo divertiti Quella puntata La ricordo con un piacere Anche se sono passati anni ormai Ero in Qatar se non sbaglio Per quella puntata Ero in Qatar Ero in Qatar Invece oggi torno Torno a Milano Torno qua con voi in questa bellissima cornice di arte settima su Estradio E torno nella terza puntata della nostra collaborazione con Biperbanca Collaborazione che ci vede ormai impegnati da mesi in un percorso di divulgazione legato all'educazione finanziaria E dato che voi mi insegnate che il cinema, l'arte sono essi stessi mezzi di divulgazione presso ovviamente un pubblico che può essere interessato a capirne e scavarne i significati Andiamo attraverso l'arte del cinema a parlare di educazione finanziaria e un po' di più del tema della finanza legato a doppio filo con Hollywood Bello E ti dirò, sono stra d'accordo con quello che hai detto Bello o bellissimo E ti dirò di più Secondo me la cosa interessante è che la relazione tra realtà e cinema Soprattutto negli Stati Uniti ma in generale nella dimensione occidentale È una relazione in cui quasi a volte non sai cosa arriva prima Cioè quello che mi piacerebbe oggi che uscisse dalla puntata che faremo Sia un po' come alcuni grandi elementi di come si è strutturata una società come è stata quella novecentesca e poi del ventunesimo secolo Siano derivati anche dalla narrazione che ne ha fatto il cinema Cioè l'idea che abbiamo noi oggi di sogno americano è un'idea essenzialmente legata a come il cinema ci ha raccontato il sogno americano L'ha veicolata al cinema stesso Esatto, il cinema è proprio quell'arte attraverso cui l'America ha creato dei miti viventi Dei miti contemporanei C'è l'idea che uno aveva degli Stati Uniti Anche io che sono stato di recente negli Stati Uniti Guardavo un mondo che avevo già visto Perché l'avevo visto nel cinema Perché il cinema me l'aveva già mostrato Di conseguenza secondo me la cosa interessante è nella dimensione di divulgazione finanziaria in generale Di come ha raccontato il suo strato economico e lo sviluppo che ha avuto una società come quella Ripeto, statunitense ma in realtà occidentale E anche orientale ormai Sicuramente i primi film di cui parleremo saranno più legati alla parte più occidentale Ma poi vedremo che in qualche modo sia anche un po' ampliato questo discorso Hanno assolutamente avuto un impatto anche nel come le persone recepivano la cosa Nel come le persone poi agivano nella loro realtà Quindi forse anche grazie al cinema che alcune persone poi hanno fatto finanza E anche grazie al cinema che alcune persone hanno capito come funzionasse La struttura economica sociale di un paese Questo secondo me che è interessante Quasi una danza dove non sai chi dei due sta guidando l'altro Anche un po' uova e gallina Nel senso per tornare al banalissimo detto E sono molto d'accordo perché forse la finanza più di tutti È una di quelle aree o comunque di quei campi Che è stato raccontato spesso con toni eroici O anche antieroici ma che andavano a scavare molto Come dici tu in quello che era effettivamente La costruzione e il sottostrato di questo grande calderone Fatto di denaro, fluttuazioni, speculazione E penso che sia un ambiente che ne ha beneficiato Ma che forse ha visto anche esposte alcune sue problematiche Alcune sue menzogne Quindi è molto interessante E secondo me addirittura Vediamo attraverso il cinema come è cambiata una società Come una società è cambiata e come i modelli Economici e sociali sono cambiati Nel senso che anche lo stesso cinema si è adattato A volte anticipando, a volte susseguendo Ma sempre con la grande lucidità di saper descrivere Di saper decostruire Ma anche di saper guardare in maniera Non per forza moralizzata Con un buono o un cattivo Ma con la lucidità di osservare un ecosistema Per quello che è di per sé Senza doverlo definire Senza doverlo attribuire a qualcosa E vedremo anche, secondo me, una società che appunto Attraverso il cinema possiamo capire come è cambiata Cioè è fighissima sta roba Se tu vedi un film degli anni 70, degli anni 80 In qualsiasi campo E nello specifico in quello di cui parliamo oggi E se poi vedi una serie tv del 2020 Ti rendi conto di come gli strumenti narrativi Ma anche il modo in cui si descrivono i protagonisti Si descrivono le relazioni E anche gli effettivi elementi di narrazione Cambiano in base al cambio della società È brillante questa dinamica, secondo me Molto interessante È bello affrontarla con persone brillanti come voi È come te, bellissimo Zirono, tu che dici? Eh, io volevo dire Volevo sottolineare proprio questo Cioè se pensiamo alle prime opere Che raccontavano un po' il mondo economico in generale In particolare quello della finanza americana E se vediamo gli ultimi prodotti che sono stati fatti Assistiamo a una differenza enorme Soprattutto per quanto dicevi anche tu Rispetto alle criticità, alle problematicità Che porta in sé questo mondo Che una volta venivano molto più sublimate Allo stesso percorso dell'eroe Allo stesso percorso personale Di crescita personale Di arricchimento anche talvolta E che invece ormai portano a evidenziare Una dimensione di complessità Non per forza problematica Ma una complessità da dover gestire Per quando si parla di economia, finanza E il mondo in generale A cosa stai pensando esattamente? Sto pensando alla differenza fra Wall Street E la grande scommessa banalmente Ok Perfetto Che sono due film che parlano Probabilmente dello stesso argomento In maniera completamente diversa Però non è proprio così Nel senso che Wall Street Non è proprio lo stesso argomento Lì c'è una crisi No, è vero Invece magari più The Wall for Wall Street Parla dello stesso argomento di Wall Street Esatto Grande scommessa raccontano Due crisi finanziarie diverse Perché una parla degli anni 80 Del lunedì nero Che sono crisi molto diverse Comunque effettivamente Esatto Rispetto a quella del 2008 Che è stata molto più Un mancare la terra sotto i piedi Per quanto riguardava il mondo E non solo La sfera economico-finanziaria americana Ma infatti io direi Iniziamo Da quale film? E rispondiamo secondo me A una domanda che rimarrà un po' latente Perché Se parliamo di Wall Street O se parliamo di Diavoli Di Succession Le opere sul cinema finanziario Rimangono fiche Cioè ci sono 60 anni di storia Molti generi si sono esauriti No? Nel senso Alcuni generi hanno saputo rinnovarsi Vedi l'Uester Vedi il thriller Però alcuni generi sono morti Il cinema è cambiato molto Eppure il cinema E le serie tv Che hanno avuto questo come tema Rimangono fiche Cioè Wall Street Era un film da Jackpot al botteghino Succession E la serie di punta Degli ultimi anni O una comunque delle serie Uno dei più vincenti Esatto Quindi è anche interessante Secondo me alla fine di questa puntata Rispondere a questa domanda Perché rimane fica questa roba Perché continuo a piacerci Perché continuiamo a gasarci Nel vederlo Quanto ne capiamo anche Cioè quanto diventa una roba Anche educativa Divulgativa Quanto siamo affascinati Dal bene e il male Quanto ci permettono Di andare oltre questi concetti Secondo me questo è un bel tema E io partirei da Wall Street Che secondo me è un po' Il primo riferimento Magari non per la nostra generazione Dov'è The Wolf of Wall Street Ed è figo che l'ultima parola Sia la stessa Ci sia semplicemente Un'aggiunta di altre parole Però sicuramente La generazione A noi subito precedente Se tu gli chiedi Qual è il film finanziario Che ti viene in mente Per eccellenza Ti dice Michael Douglas Ma si può anche un po' Generalizzare Cioè se prendiamo un po' Tutte le generazioni Tutto il mondo del cinema Il film di riferimento Per quanto riguarda la finanza Anche E non solo Per il fatto che è stato il primo È probabilmente Wall Street Esatto E che ci dice Wall Street? Eh Wall Street Per quanto mi riguarda E l'ho visto Veramente tanti anni fa Poi avevo visto anche Il remake Con Michael Douglas Che fa da mentor A Shea Leboe Terribile quello Terribile E poi Shea Leboe Investe sui Transformers Giusto? Poi diventa anche lui Nel terzo Wall Street diventa Un Transformers In realtà C'è una relazione Tra Wall Street E Transformers C'è una stranissima Beh se ci pensi Alla fine sì In realtà Transformers È tutta una metafora Del mondo della finanza Può essere Ma in realtà può essere La metafora di qualunque cosa Transformers Infatti hanno tagliato La parte in cui Shea Leboe Va a fare il pitch A Elon Musk Per costruire Per portare i Transformers Sulla luna Comunque Che stavi dicendo? Eh che secondo me Dal mio personalizzazione Punto di vista Racconta molto di più Un viaggio personale Rispetto che a uno collettivo Racconta molto più Una verità individuale Piuttosto che una contestuale Di quello che succede intorno È molto più Quasi un viaggio dell'eroe Tema che riprendiamo spesso Perché indissolubilmente Legato al cinema americano Rispetto che Ha una vera cronaca Socioculturale Collettiva Che è possibile fare Che è stata possibile fare Secondo me Dopo un determinato Esame critico Come è stato fatto Da Adam McCain E La Grande Scommessa Anche adottando Non esattamente Ma avvicinandosi molto Alla dimensione Di un film Quasi di inchiesta Perché è quasi Un film di inchiesta La Grande Scommessa Esatto Sono stato d'accordo Invece In Wall Street Parliamo molto di più Del cammino Di un personaggio In un mondo Che inizialmente Presenta delle difficoltà Ci sono gli ostacoli Ci sono gli antagonisti Ci sono i coprotagonisti Gli alleati Gli espedienti E quindi è una narrazione Che descrive un mondo Forse per la prima volta Nonostante fosse un mondo Già intrinseco Della natura Culturale americana Cioè se pensiamo Che comunque Le grandi istituzioni Bancarie americane Hanno Almeno 200 anni Esatto Lì invece Parla molto più Di quello Che è il personaggio Gordon Gekko Piuttosto che Quella che è Wall Street E questo è molto interessante Ed è anche molto Intuibile Comprensibile Se pensiamo Al cinema di quegli anni E alla finanza E all'economia americana E anche il regista Che l'ha fatto Che è Oliver Stone Esatto Che comunque è un regista Che è sempre stato politico Alla fine Assolutamente Soprattutto sul governo Bush La rappresentazione Nel film di Bush Penso che sia il motivo Per cui io lo conosco Oliver Stone Però effettivamente È un film dell'87 Ed è un film che In ogni caso È subordinato Delle regole Che aveva il cinema Di quegli anni Che non era un cinema Particolarmente brillante Se non per qualche autore Che però era sicuramente Già più maturo Oliver Stone nell'87 Comunque non è Non è un regista maturo Ora non vorrei Sminuirlo Non è il suo primo film Non è nemmeno il suo Capolavoro Secondo me Dei temi interessanti Di Wall Street Prima di tutto Come dice Zino Wall Street È sicuramente Un viaggio Di persone specifiche Un viaggio Di un eroe A cui viene chiesto Fino a che punto È disposto A compromettersi Un mentore Un mentore che è Completamente affascinante Ma ovviamente Ha una sua fragilità Fondamentalmente In ciò che perde Della relazione Col mondo Però secondo me Un aspetto interessante Da intercettare È il racconto Che si ha Del mondo Di Wall Street Cioè quando noi Vediamo Wall Street Noi viviamo Quasi un pantheon Semidivino Cioè coloro Che abitano Quel mondo Rappresentano Una certa Classe dirigente Una certa Classe economica E quindi Dà anche un senso Di distacco Certo È un'elite Non sono Wall Street E il personaggio Di Charlie Sheen Ci serve Con quella dimensione Classica Del sogno americano Per dimostrarci Che chiunque può Però ancora Con un certo distacco Una cosa che è Faccio un velocissimo Flash forward Invece vedremo Nelle opere Dal 2000 in poi È che ci si è Avvicinata Tantissimo La dimensione Della finanza Cioè quando tu vedi Il personaggio Di Christian Bale In The Big Short Il personaggio Di Christian Bale È vestito Con la magliettina Con l'Apolo Suona la batteria È un po' nerd Sandali al lavoro È un po' nerd Alle cuffiette Eppure lui In realtà Se volessimo usare Le logiche classiche È il grande eroe Della storia Perché è quello Che ha capito Prima di tutti Quello che sarebbe Successo nel 2008 Tra l'altro Uno che guadagnerà Un sacco di soldi Ha avuto un'intuizione Geniale Di conseguenza La cosa affascinante Secondo me In questo primo parallelismo È che Con il tempo È cambiato Il mondo Dell'economia In questo senso Cioè si è reso Molto più vicino A chiunque Con la digitalizzazione La dimensione Di internet La dimensione Proprio Dello studio Della finanza Da un punto di vista Di libri Può Essere Christian Bale Cosa che Wall Street Ancora non ci diceva Nell'87 Cioè in Wall Street Era chiaro Che comunque Per entrare In quella casta Ci fosse un dato percorso Quello che è successo Nel fine del 2000 Soprattutto La grande scommessa È che è invisibile Ma secondo me Fortemente percettibile Che un Christian Bale È uno di noi Ma ancora di più Forse i due ragazzi E il personaggio I Brad Pitt Che effettivamente Rappresenta proprio Quel mondo Di chi si è allontanato Da quel discorso Molto Wall Street Vive in Florida Se non sbaglio Esatto Coltiva le verdure Dell'orto E i due ragazzi Sono quelli Che stanno provando Chiaramente Che però sono due ragazzi Semplicissimi E questa cosa è affascinante Cioè ti dà un'idea Antropologica Di ciò che è oggi L'America Molto diversa È un po' come Quando noi vediamo Le foto di Gianni Agnelli In Italia E c'è un distacco È una figura Quasi semidivina Veramente Anche iconica Nella sua estetica E magari invece Oggi lo stesso Elon Musk È uno che fa i memi Su Twitter Verissimo Cioè è cambiata Completamente La dimensione estetica E narrativa Del personaggio leader Della finanza E questo è molto interessante Comunque ti correggo Elon Musk non fa i meme Su Twitter li pubblica Vabbè sì Anche il proprietario Di Twitter Sì ma non li fa lui Non è che Elon Musk Si mette là Su meme maker E fa i meme Che fa i meme È un gran meme Le condivide Secondo me è molto vero Il discorso Cioè io Ripensando a Wall Street Penso proprio Al percorso di una persona E penso che Per quanto sia Il nome più legato Strettamente E geograficamente Alla finanza Quella sorta di dinamica Del giovane rampante Che si aggancia A un mentore Che inizialmente Lo cresce Poi lo tradisce È una dinamica Che funziona molto bene Per raccontare La Wall Street Di quegli anni Di come percepita Ma che se in realtà Tu la trasporti In un altro settore In un altro ambito Karate Kid Viene fuori Karate Kid La stessa cosa The founder Cioè non lo so Ci sono un sacco Di dinamiche Di potere Che Su cui si concentra Molto di più Il film Come dici tu Invece Nei film più recenti Si dà per scontata Forse si lavora tanto Su una sorta Di democratizzazione Della informazione finanziaria Cioè avviciniamo Questi concetti Alle persone E anche dal punto di vista estetico Quindi le persone Protagoniste Di questi concetti Sono più simili a noi E ti dirò di più La cosa affascinante È che non è lo scopo Del film C'è lo scopo Della grande scommessa È tutt'altro Forse l'opposto Esatto E poi ci entriamo Ma la cosa figa È che un elemento latente Quindi rispetto a quello Che si diceva prima Cioè il fatto Che in qualche modo Il cinema Dialoghi E riesca Quasi inconsciamente Ad assorbire Delle modifiche storiche sociali Fa sì che È un film come La grande scommessa È un film di grande denuncia Però ha come elemento latente Questa dimensione Della democratizzazione Che non è il suo scopo Ma che è imprescindibile Per una reazione Una reazione Realistica E credibile E attuale Di questa tematica Ma questo È stato reso possibile Secondo me Perché l'America Per Diciamo E di riflesso Anche il cinema americano Come prodotto Della cultura americana Ha bisogno Un po' di Grandi shock Socioculturali Per poter Dare un immaginario Diverso A determinati concetti Anche assodati Per secoli E questo è stato possibile Dopo la crisi del 2008 Cioè nella crisi del 2008 Parliamo del crollo Del mercato immobiliare La cosa più solida Dell'economia americana Di milioni di persone Che hanno perso il lavoro La certezza di Wall Street Esatto Cioè di milioni di persone Che hanno perso la certezza Dall'elite A Le ultime ruote del carro E infatti Tutti questi film Che raccontano Una dimensione Molto più democratica Molto più collettiva Dell'economia Come Fier Rouge Che unisce tutte le persone Sono successivi al 2008 Parliamo di Wolf of Wall Street 2014 La grande scommessa Tra l'altro io parlerei Poi di Wolf of Wall Street Passando dopo Wall Street Esatto Perché è una bella evoluzione Secondo me Di quel percorso là E su questo vi propongo Un'altra provocazione Sempre di questa relazione Tra Wall Street E il dopo Wall Street Mi piace che abbiamo creato Questa dualità Cioè Wall Street 87 Una certa America Una certa Yuppie Esatto E poi c'è un dopo Un'altra secondo me Fondamentale della narrazione È che In Wall Street La questione è Etica Nel senso Il tema fondamentale Del protagonista Charlie Sheen È cosa scelgo Nella vita Scelgo di sporcarmi Per il potere Oppure scelgo La vita L'amore La relazione La felicità Scelgo di togliermi Quel cappello Da appunto Quella casta Quel pantheon Eccetera E quindi è ancora Il viaggio dell'eroe È ancora quella roba lì Noi come diceva anche Joe Applichiamo Un sistema Applichiamo un sistema Narrativo A un film Lo riempiamo Dei temi specifici Del genere Ma di fondo Il tema rimane quello E devo ancora Moralizzare una società In maniera anche poi Abbastanza fittizia Il dopo Non è più etico Il dopo Anche perché etico Che vuol dire Etico diventa anche Ritorico in se stesso Perché poi la stessa America Che ti racconta Charlie Sheen Che fa le scelte della vita Però poi la stessa America Che ha fatto una serie Di cose discutibili Il dopo diventa Un dopo di Io ti racconto La realtà Esatto Poi sta a te Giudicarla Smettiamola Di creare Dei presupposti etici Abbiamo l'onestà Intellettuale Di dirti Cosa è la realtà Poi Sta a te Decidere cosa si può fare Cosa non si può fare Però questa è una grande menzogna Perché in realtà La realtà È irrappresentabile Ovviamente E invece zio Nel momento in cui Tu ti togli Il cappello Del Divulgatore Del vero E mostri qualcosa Ma quel cappello È inevitabile Perché la realtà Non può mai essere Racchiusta Ecco appunto Un film che non è Assolutamente realistico Ed è una mitizzazione Ma no invece Pensa al fatto che Uno racconta la storia Di una persona Che è realmente esistita E uno non lo fa E due Non è una mitizzazione Di Wolf of the Street Scegli tu Se decidere che lui È un grande O non è un grande Beh zio Scorsese Non prende posizione Una scena Una scena Di The Wolf of Wall Street E voglio che te la immagini Bene nella tua cazzo di testa Ok Loro sono su un jet privato Per l'addio al celibato Del tipo Certo Ok succede di tutto Su quel jet privato Ok Io ero in sala Al cinema con te E mi ricordo La tua reazione È la reazione Di tutti i nostri amici Ma soprattutto Mi ricordo Per anni dopo Quanto quel film Si è stato mitizzato Dalla nostra generazione Certo Ma quel film Scorsese però Nel senso È uno che ha rappresentato I gangster Per tantissimo tempo Casino Ci sono un sacco di film In cui lui parla del male In The Wolf of Wall Street Io non ho mai percepito L'idea Che lui stesse parlando Del male E siamo tutti d'accordo Qui che Jordan Belfort È il male Perché è un truffatore Cioè non è una cosa positiva All'interno del mondo Certo Zio Ma The Wolf of Wall Street Non ha Ci sono anche Ti racconto io Una scena Lui in macchina Con la bambina Che si schianta In condizioni non lucide Ma non è drammatica Far ridere La gente ride in sala La gente ride in sala Perché vuole dissimulare il trauma Questo è un altro discorso E possiamo aprirlo La gente ride in sala Perché non ha il coraggio Di fare i conti Con alcuni aspetti Però il punto chiave Di quel film È che in realtà Siamo noi Che abbiamo deciso Di definirlo un mito E questa è la vera questione Perché la società È innamorata Di Jordan Belfort Perché John Dahl Belfort È un genio Del male Ma è un genio Perché non puoi negare Che sia un genio Del male Ma è un genio E Jordan Belfort Racconta Quello che poi alla fine È il motivo Che muove Tutto un racconto sociale Cioè Io come faccio Ad affermarmi Nella società contemporanea Qual è la via Più veloce Più efficace Jordan Belfort Non è un genio È furbo Cioè che vuol dire genialità Prendilo come Hai detto tre volte Guarda che è un genio Tanto quanto lo è Michael Berry A capire che l'economia Sta fallendo Lui è un genio A capire Gioca dall'altra parte Esatto Del male Del male Cioè non sto dicendo che Ma è un genio Chiunque abbia una buona idea No zio Lui ha creato un impero Poi non sto dicendo Che sia un bene È un impero che è fallito Dopo cinque anni Perché li hanno arrestati tutti Certo Comunque vabbè No ma scusami Ora non voglio tirare fuori I nomi di mafiosi Che sono stati arrestati Le recette Però anche loro sono geni Tutti sono chiunque Qualcosa è un genio Quello è diverso Non devi confondere Il successo In un determinato ambito Quanto L'intuizione geniale Il successo Che è portato da una rivoluzione Ma Jordan Belfort Personaggio reale Rispetto a Jordan Belfort Personaggio cinematografico Rappresentato da Scorsese Cioè nel senso Ovviamente La rappresentazione di Scorsese È una prospettiva Della vita di Belfort Se lui avesse deciso Di rappresentare il film Dal punto di vista Della moglie O dei figli Sarebbe venuto fuori Un film drammatico Cioè la scelta Di fare quel film La verità Ti ha consegnato Un'immagine Cioè quei momenti Incredibilmente potenti Di Jordan Belfort Sono reali Lui ha veramente Vissuto quei momenti Dove era circondato Da una bellezza Di carattere Sicuramente Legato a una dimensione Consumistica Legato a una serie di aspetti Ma è tutto reale Cioè la vita di Jordan Belfort È stata così Punto L'aggiunta etica Ce la fai tu Come è giusto che sia Anche secondo me Jordan Belfort È una persona negativa Mica sto dicendo che sia una persona positiva Ma il punto qua Era più sulla narrazione americana Cioè Scorsese Non ha fatto un film Che ha uno scopo Morale Scorsese Ha fatto un iperbole Realista Della vita di Jordan Belfort Io mi sono scritto economia Dopo aver visto The Wolf of Wall Street Io volevo quella vita Tutto questo discorso Per dire questa cosa È geniale Magari il giudizio Il giudizio iniziale È un po' Faccio il tifo per lui Ma come al solito Proprio perché È una cosa Impregnata appunto È Leonardo Di Caprio È impregnato Da una serie appunto Di momenti Molto pop Molto divertenti Molto comici Lui comunque Nella prima parte Dell'ascesa Anche le sue Intuizioni più losche E qua mi rifaccio All'intuizione geniale Perché comunque Da genio del male Le penny stock E la marginalità Che lui ha messo In atto Attraverso la vendita Di penny stock Era qualcosa che Nessuno a Wall Street Aveva mai pensato Prima di lui Lui deve arrivare Nel exchange Di Long Island Per capire Che c'è questa Grande opportunità Che con La sua abilità Di trader Di prodotti sicuri Può far risultare Come prodotti sicuri Dei prodotti che in realtà Valgono molto meno Della mia tazza Di Willy Coyote Che però Raccontati bene Possono portare Una marginalità Del 50% Contro quella Dell'1% Che lui faceva Tradando A Wall Street E secondo me All'inizio Tu istintivamente Parteggi un po' Per lui Perché come Come dicevamo prima Anche forse un po' Sulle orme Di Charlie Sheen Sta facendo gli step Sta facendo gli step Per entrare a far parte Di quelli Anzi non solo Dopo che ti racconta Tutto lo struggle Per essere arrivato A prendere la licenza Da broker Ascoltando Le illuminanti Idee di Matthew McConaughey Su cosa serve Per essere In quel mondo Primo giorno da broker Il più grave Disastro finanziario Di quell'epoca Che è lo stesso Tra l'altro Di Wall Street Di Wall Street E quindi Tu siccome In quella parte Ancora sei un po' Lì che dici Sì non mi sembra Una grande persona Però è uno Che sta cercando Di affermarti E secondo me Lo conservi Per un po' Finché effettivamente Non arrivi a pensare A quello che sta facendo Questa persona Ovvero Sta consumando Stupefacenti A una Al di là di quello Cioè alla fine Lui truffa le persone Truffa le persone È infedele Con Il tema è un altro Il tema è Cosa sta facendo Il cinema Americano Rispetto A La contemporaneità Io non credo Minimamente Che Scorsese Elogi Jordan No Ma soprattutto Sai perché Martin Scorsese Non ha mai elogiato Nessuno Ma poi quella Non è contemporaneità Tra l'altro Hai ragione Cioè quello è Un percorso Che c'è stato Io penso Che il punto sia Che Martin Scorsese Ti racconta Uno spaccato Reale Iperbolizzato Ma probabilmente Assolutamente Coerente Con la vita Di un certo uomo Di un certo gruppo Di persone E ti metti In una situazione In cui non sta A lui Dirti se è giusto O sbagliato Perché quel finzio Non elogia Nessuno Sei tu Che ci vedi Un elogio Nel momento in cui Credi Che una persona Che fa certe cose È un fico Mica lui ti ha detto Che è un fico Cioè il punto è che Se Charlie Sheen È in The Wolf of Wall Street In Wall Street La morale è dichiarata Il film Ha uno scopo Di dirti Cos'è giusto E cos'è sbagliato The Wolf of Wall Street Non ti dice Né cos'è giusto Né cos'è sbagliato Ti racconta La vita di un uomo Dalla sua prospettiva Ovvio Dove dalla sua prospettiva Ovviamente lui diventa Difensore di se stesso Ma non è che lui Ti ha costruito Un racconto di da scalico Per dirti Lui è un grande Lui non è un grande Lui è un grande Lui in momenti tragici È voglia che ti racconta Zio Guarda che ci sono Un sacco di momenti Che siamo noi Che abbiamo deciso Che non siano tragici Ed è proprio questo Che ci dovrebbe porre Delle domande Su cui effettivamente Cosa noi crediamo Quindi secondo me Il punto interessante È che Martin Scorsese Fa un film Che ha lo scopo Di dimostrarci E anche qui potremmo dirci Forse anche implicitamente Per quello che dicevamo prima Su come alcuni aspetti Dell'americanità Sono cambiati Che oggi In qualche modo Il mondo Non sta più Ragionando per Giusto o sbagliato Sta ragionando Per questa è la realtà Questo è il mondo Abitatelo Smettiamola di creare I presupposti etici Ma che non vuol dire Fate le cose sbagliate Non stiamo dicendo Che alcuni aspetti Di certi mondi Siano sbagliati No Semplicemente Esiste un mondo Che ha tanti livelli Che ha tante forme interpretative Che ha tante verità E menzogne al suo interno Abitatelo Cioè questo penso Sia il punto chiave La grande scommessa È un altro film Dove Non è che Adam McKay Ponga semplicemente Un giudizio È ovvio che il finale Ti dice Il 2008 è stato un disastro E poi probabilmente Chi ne ha pagato Sono stati Di più le povere persone Ma ti dice anche Guarda questa umanità Cioè guarda questa umanità Dove Christian Bell Non veniva creduto E in realtà era un genio E Christian Bell È uno che continua Stretto sulla sua linea Dove quei due ragazzetti Vedono un mondo E gli dicono Ma veramente sta succedendo Cioè Nel senso In In la grande scommessa Ci sono vari livelli Di interpretazione Dove un livello È sicuramente La parte di Ok il 2008 È stato un disastro Ma ci sono anche Di livelli Di interpretazioni Di livelli antropologici Che oggi abitano Il mondo Dell'economia Occidentale Che è interessantissimo C'è la scena Di Steve Carrell Con l'altro Lì non è che C'è un buono Un cattivo Lì c'è uno Che ha capito Che sta cambiando E che sta investendo Cioè Steve Carrell Che a noi risulta un eroe È comunque una persona Che ha guadagnato Un sacco di soldi Ma certo Cioè Steve Carrell Ha capito Il fallimento Del 2008 E ci ha investito Dei soldi Per guadagnarci Cioè non è un buono Steve Carrell Ma invece è un buono Perché comunque Lui non può fare niente Per cambiare la situazione Perché lui è un fobri Cioè cosa vuol dire Buono in questo discorso Steve Carrell in quel film È un buono Non è un buono Vedi questo Però in questo Mi cadi proprio Sul banalissimo Ma no perché ci sono Degli elementi Di scelgiatura Probabilmente C'ha uno yacht Da 60 metri Sì ma il personaggio Del fratello Te lo ricordi? Certo Eh ok Quello è un dramma Che tu inserisci All'interno di un personaggio Ed è chiaro Chiaro Che lo spettatore Porterà a essere empatico E quindi diventa un eroe Non c'entra con quello Che lui fa Da un punto di vista economico Ma quello è un film Cioè lui devi pensare Che allo stesso modo In cui le grandi banche americane Fregavano la gente Accorpando Le obbligazioni Falsificando i rating Lui allo stesso tempo Gioca dall'altra parte Ma cavalca Quella stessa onda Di stupidità Ingenuità E frode Scommettendo contro i loro Però stai facendo anche tu Quello stesso gioco Non ti stai tirando fuori Non ti stai elevando A un livello moralmente superiore Sei anche tu Parte della stessa partita Poi giochi da un'altra parte Però sei sempre In quella partita lì E stai guadagnando anche tu Su quella partita lì Che è la mia cosa preferita Che è quella che dice Brad Pitt Ai due ragazzi Esatto Quando diciamo Hanno fatto Diciamo il primo deal Di short Che appunto Lo shorting È la pratica Di scommettere Contro la performance Di un titolo Esatto Quindi io dico che Questa paperella Il valore Tracollerà E quindi Se effettivamente Ho ragione Guadagno Se invece sbaglio E il valore della paperella Cresce Io devo pagare Dei premium Regolari Per rimanere Attivo nella scommessa Quindi Nel momento in cui Loro fanno quella cosa E sono tutti gasati Due ragazzi Con quelli che dicevi Tu prima Che arrivano con l'ambizione Di entrare in questo mondo Brad Pitt Li dice Ma cosa cazzo State festeggiando Da fare Da brividi Perché state festeggiando Vi rendete conto Cosa stiamo scommettendo noi Cioè da che parte Del tavolo stiamo giocando Se abbiamo ragione Questo vuol dire Che milioni di persone Perderanno il lavoro Milioni di persone Perderanno la casa Vi piace tanto i numeri Ogni 1% Di disoccupazione in più 40.000 persone Muoiono Questo è un numero Che vi dovete ricordare E quello secondo me È un po' Il modo di inquadrare Tutti i personaggi Della grande scommessa In quanto Non eroi Ma parte Di una realtà Che Adam McKay Ha saputo Incapsulare Raccontare Come secondo me Nessuno ha saputo fare In film Che possono essere iscritti A questo genere Ecco Perché è veramente C'è una profondità E una lucidità Nel rappresentare Quello che è Che è praticamente Un acquario In cui lui ha chiuso Dentro Wall Street Esatto Sono d'accordo di La cosa fighissima E quello secondo me È un caso Cioè la cosa affascinante Dei nuovi registi americani È che stanno avendo Delle linee autoriali Molto specifiche Cioè nel senso Non c'è più Una corrente Del cinema americano Come dicevamo prima Wall Street Rappresenta un cinema americano Che hanno fatto in milioni Lo possiamo applicare A Cratera Creed Lo possiamo applicare A Indiana Jones Lo possiamo applicare A Ritorno al futuro A Star Wars Oggi Gli autori americani O le autrici Anche Greta Gerwig Che è una grande autrice Del cinema americano Contemporaneo Non vedo l'ora Di vedere Barbie Apri chiudo parentesi Che sarà un film Incredibile Pazzesco Hanno degli stili Molto più specifici Cioè il cinema Di Adam McKay È il cinema di Adam McKay Non è il cinema americano E Adam McKay Fa un'operazione In La Grande Scommessa Che secondo me È davvero brillante Cioè sempre sulla stregua Del pop Perché oggettivamente È un cinema pop Quello di Adam McKay Fa un lavoro In cui rende cool L'educazione finanziaria Lui vuole fare Un film complicatissimo Perché vuole spiegare Cosa sono i mutui subprime Vuole spiegare Il mercato immobiliare I CD o la bola Vuole fare un lavoro Complicatissimo Vuole renderlo pop Vuole renderlo intrigante Vuole renderlo accattivante C'è un lavoro In montaggio incredibile Dietro col film Un montaggio pazzesco Ritmato Cosa fa? Prende Star di Hollywood Figure Divi O dive Della figura Della dimensione americana Statunitense Eccetera E li mette In dei contesti divertenti Assurdi Iperbolici E gli fa spiegare Delle cose Della finanza Cioè questa cosa è geniale Quando fa Quando fa spiegare Il concetto di CD o sintetico A Selena Gomez E Richard Thaler Cioè Thaler Premio Nobel per l'economia Io l'ho studiato In psicologia economica E spiega con Selena Gomez L'analogia fra CD o Sulla scommessa della scommessa Geniale Quella scena Margot Robbie In una vasca Cioè capito E' anche una provocazione No? Margot Robbie E anche E questa è una cosa bella Delle attrici Degli attori americani Che si mettono sempre in discussione Quando capiscono Che c'è un valore autoriale dietro Assolutamente Cioè lo faccio Perché so che ha un senso Autoriale di un certo valore Margot Robbie Vi aggiungo una chicchetta Vi aggiungo una chicca Vi aggiungo una chicca Vi aggiungo una chicca Così ci colleghiamo anche all'ultima fase Che Adam McKay gira la prima puntata di Succession Mava Comunicità da Wikipedia ragazzi Lui che ne è produttore Lui che ne è produttore Gira proprio come regista la prima puntata di Succession C'è un grande C'è un grande Interessante C'è un grande protagonista Che secondo me lui ha scoperto In The Big Short E si è portato come protagonista in Succession Perché Nel cinismo di Steve Carell Che è il mio personaggio preferito In The Big Short Perché Proprio poi riconducendo un po' A quello che dicevi tu Che lui alla fine è parte del gioco E però Quando poi si trova con queste persone Che sono talmente dentro A questo meccanismo di avidità Che non capiscono neanche il danno Che stanno facendo La scena con il CDO manager Alla cena a Las Vegas Da cui lui poi esce dicendo I thought we were better than this Cioè io pensavo fossimo migliori di così Cioè è quello un po' il discorso Cioè non è una cosa che sono arrabbiato Sono triste Sono molto triste Perché io pensavo Che collettivamente Fossimo meglio di così Non sta facendo secondo me Un giudizio Morale Sulla finanza Ma proprio più un giudizio Umano Su Quello che collettivamente Riconosce come il proprio gruppo Come genere umano Perché dice Qua ci abbiamo messo le mani tutti E abbiamo fatto un disastro Che in 4-5 ci siamo resi conto Di che disastro era Finché poi non era troppo tardi E il suo cinismo viene accompagnato benissimo Secondo me dal suo analista Vinny Che è quello che poi gli fa Il discorso finale E lo porta a vendere Perché dice È inutile che per dimostrargli Il punto Tu rimani Dall'altra parte della barricata Accetta che in questa Siamo nello stesso calderone Ma almeno Noi siamo quelli Che gli danno il calcio E vedremo qualcuno di loro Andare in galera E a me piace molto Perché è un po' La voce della coscienza Di Steve Carrell Il personaggio di Vinny Che poi diventa Protagonista di Succession Nel ruolo di Kendall Adesso non mi viene il cognome Della Roy Jenner Nel ruolo di Kendall Jenner Perché tra l'altro Succession è una metafora Dei Kardashian Lo sappiamo Ma l'essere Ma in realtà Secondo me Dovremmo scrivere un saggio Di 10.000 pagine Su questa cosa Zio Kardashian Collegare qualunque Posso farti un ragionamento Che parte dai Kardashian E arriva Ai Borgia Ai Borgia Poi sono un esempio Perfetto Hai detto la roba più ovvia Però sì Succession Secondo me La peculiarità Che ne fa anche la forza Sotto un certo punto di vista È il fatto che Non racconti così Specificatamente Le dinamiche Economiche Finanziarie Quanto le dinamiche di potere Che vanno sempre di pari passo In un mondo Come quello Dell'economia americana E di come questa famiglia Che richiama la famiglia Mardock un po' Esatto Lui in persona Un po' Rupert Mardock Beh anche un po' I Maldini Forse anche un po' I Maldini Non so quanto volessero A priori Poi sicuramente Ci sono ritrovati C'erano i Maldini Che si chiamavano Più Mardock Poi lì siamo noi Che secondo me Succession Come in qualche modo Mad Men Apre un nuovo campo Di dialogo Che è il campo Della comunicazione E del business Che è la comunicazione Certo Prima non c'erano film In questo caso Serie tv Che parlassero di questo Cioè quanto Mad Men Mad Men Eh Mad Men Ah ok scusa Pensavo parlassi su Succession No Succession come Mad Men Parlano della comunicazione Che è diventato Un business interessantissimo E che racconta anche lì Una dimensione sociale Cioè è bello Che le due serie tv Di riferimento Probabilmente sul tema Che sono Succession E Diavoli Hanno due campi nuovi Cioè da una parte Un campo eterno Come tu Di cui parlavi tu Che è quello della famiglia Le relazioni familiari Il potere Nella famiglia E della famiglia Al di fuori E della famiglia Tra se stessa Che è molto affascinante E Diavoli invece Per la prima volta Forse è una serie Che porta davvero La dimensione del mercato europeo Ad avere un valore In questo discorso qua Che non l'aveva mai avuto Anche perché Nelle serie Nel cinema sì Però nelle serie effettivamente Però poi è indissolubilmente legato A quello americano In termini puramente economici Il mercato è quello Il mercato è quello Cioè tutta la narrativa Soprattutto per l'inglese Perché Diavoli è recitato in inglese Anche per Borghi È recitato in inglese E ambientato nella borsa di Londra Cioè il fondo è un fondo di Londra Comunque prima avevo capito Come Madman Cioè Madman Che pensavo fosse il rap Perché David Tice è Madman Per quello non avevo capito Che parlavi di Madman Però sì Cioè Diavoli porta tutta la questione Dei pigs I paesi europei Che diciamo Costituivano un po' una zavorra Da un punto di vista economico Finanziario Per la finanza occidentale Perché parlare esclusivamente Di Europa e America È sbagliato Soprattutto post 2008 Vedendo anche gli effetti Che ci sono stati Cioè noi forse ci dimentichiamo Che la crisi finanziaria in Italia È arrivata nel 2011 Cioè ci sono stati tre anni di mezzo Fra il crollo immobiliare americano E la crisi economica italiana Per quanto ci riguarda E quello è molto interessante È molto interessante il fatto Che abbiano scelto Un attore italiano Come Alessandro Borghi Per impersonare Quello che si affianca Lui non mi Patrick Dempsey Patrick Dempsey E che io è Grey's Anatomy Esatto Cioè per me lui è Il dottor Derek Il dottor Di Grey's Anatomy Mai visto una puntata Di Grey's Anatomy Ne vado fiero Nostra madre è super fan Penso abbia visto 16 stagioni La classico delle madri L'ho visto per dieci anni Grey's Anatomy Non so se si può avere un figlio E non guardare Grey's Anatomy Subito dopo È lo stesso step Del cammino dell'eroe Di uno street Ecco c'è quell'altro Uno dei primi impeti materni Esatto Però è stata un'operazione Molto interessante Tra l'altro penso Abbiano Io ho visto solo la prima stagione Se non sbaglio Ho fatto la seconda E se non sbaglio In cantiere anche una terza Di Diavoli o di Grey's Anatomy? Di Grey's Anatomy Penso sia la ventesima In cantiere Di Diavoli Di Diavoli Però Derek non c'è più In Grey's Anatomy No è morto Facciamo spoiler Ma non è morto in Diavoli Facciamo spoiler Lui è il vero È il vero Di Diavolo Non ho capito Non c'è più in Diavoli Ah lui c'è Ma è morto Ma c'è comunque Nella serie No non c'è in Grey's Anatomy Ah ok Lo sapevo È tipo Obi-Wan Nell'impero complisce ancora Fantasma blu Accanto a lui Che parla con Borghi Don't sell it Non sell it Comprazioni Netflix Esatto Buy Netflix Però è molto interessante Che abbiamo scelto Di raccontare Tra l'altro Con la prospettiva Della serialità Due mondi Che sostanzialmente Non erano ancora Stati raccontati In quel modo Ovvero Quello della finanza europea Visto che la finanza La reputiamo sempre Una cosa esclusivamente americana Cioè la finanza è Wall Street La finanza sono gli Stati Uniti Tutto il resto è a cascata Cioè nasce da lì E tutto viene dopo E invece è stato fatto Un bello spaccato Soprattutto su quanto è Variegata E complessa L'economia In una mega giga istituzione Come l'Unione Europea Che rapporte Che presenta Società Molte più sfaccettature Completamente diverse Cioè i PIGS sono Portogallo Italia Grecia Spagna Sono queste Sono queste quattro Che sono i paesi Cioè paesi anche storicamente Iper importanti Da un punto di vista Culturale Per l'Europa Ma che finanziariamente Non riescono a stare Al pari passo Rispetto a Però ora la Grecia Credo Ho visto oggi Un documentario sulla Grecia Che ci sono state le lezioni Un documentario Breaking Italy La puntata Ok Fanno fortissimo Le penny stock in Grecia Stanno facendo bene È arrivato adesso Già 40 anni dopo Pare che la Grecia Sia ripresa Economicamente La manovra Varoufakis Secondo te Ti propongo Una riflessione Cioè una cosa Delle serie tv Di recente parlavo Con una persona Che mi diceva Una cosa molto interessante Sulle serie tv Mi diceva Oggi noi abbiamo bisogno Di affezionarci E quindi la cosa bella Delle serie tv È che tu ti affezioni A un personaggio Non lo devi lasciare andare A una storia Ci puoi stare Due, tre, quattro, cinque Sei stagioni Perché per le nostre solitudini Per i nostri isolamenti Abbiamo tendenza A aver bisogno Di affezionarci Quindi le serie tv Funzionano anche per questo È un concetto Che se ci pensi Anche in contraddizione Con la fretta di oggi Assolutamente Si penserebbe a volte Che in certi casi Anche senso quello Però in realtà Poi le serie tv Durano tantissimo Eppure la gente Preferisce vedersi Una serie che dura Settecento puntate Che dieci film Perché si affeziona Certo In un campo come Succession e Diavoli Che sono due serie diverse Sono diverse a livello registrico Succession è molto più americana Nello stile Nel ritmo Nella musica Nel gaso Diavoli comunque Ha delle chicche Un po' più europee E le percepisci Proprio anche nell'estetica Però entrambi interessanti Ma secondo te A cosa ci si affeziona A Succession E a cosa ci si affeziona A Diavoli Se c'è qualcosa Allora Per quanto riguarda Diavoli Secondo me Esclusivamente Cioè Quanto bene ti parlo Dal mio punto di vista personale Esclusivamente la figura Di Alessandro Borghi Perché anche lì C'è una dimensione Un po' di scalata Alla Wall Street Cioè lui era Quello italiano Che è arrivato a Londra Ha iniziato Quasi per sbaglio A lavorare In questo fondo E per un motivo Per l'altro Per sua bravura Per un po' di fortuna Che Nell'ambito finanziario Soprattutto quando si Fa quel tipo di lavoro Serve sempre È arrivato ad avere Un mega successo Ad essere il numero due Del capo del fondo Di investimento Quindi secondo me È molto più legata Alla dimensione personale Dell'individuo Di quello che ce la fa Poi figurati È un italiano Quindi da un punto di vista Italiano C'hai anche un po' di Campanismo Tu sei italiano Non mi ricordo Io sono italiano Io sono italiano Quando non mi fa comodo Ogni tanto Ma poi per voi di Milano Secondo me Diciamo l'immagine Della persona Che va in Inghilterra A fare economia È proprio uno stereotipo Quasi Esatto Cioè io penso Il 95% Di miei amici Che hanno studiato A Bari È tipo gente Che fa economia A Milano Esatto Invece poi c'è Arrivato a Milano La gente di Milano Va a Londra La gente di Londra Dove va? Va a New York Helsinki La gente di New York Dove va? All'Hawai A Shanghai A Shanghai A Singapore Hong Kong Quindi secondo me In Diavoli è molto più Legata al personaggio In Succession È molto più legata Alle dinamiche familiari Perché tu passi Veramente Da odiare Amare Ogni singolo Membro della famiglia Nel corso Della puntata Perché non è Un rapporto Unilaterale O anche Esclusivamente bilaterale Come può essere Quello di Borghi Con un altro personaggio O Borghi Con il mondo Del suo lavoro Con il mondo Del mercato finanziario Lì ci sono Molte più dinamiche Che riguardano Il mondo economico E finanziario Il mondo della comunicazione Che si deve trovare A gestire L'azienda di famiglia Le dinamiche Intrapersonali Che si verificano Fra padre e figli Fra fratelli Fra Sposi Fidanzati Esatto Cugini Tutte le persone Che entrano A far parte di quel mondo Pur non effettivamente Lavorandoci Cioè Le persone che effettivamente Lavorano nel business Di famiglia di succession Sono il padre Io ho visto solo La prima stagione Il padre e tre Sono il padre e un figlio E il figlio che è Kieran Culkin Fratello di McCauley Culkin Di Mambo Verso l'aereo Che ha pure vinto Golden Globe Mi sembra post Perché è incredibile Roman Lui è l'unico Che alla fine Della prima stagione Lavora insieme al padre Che è il patriarca Il CEO Il presidente Tutto quello che vuoi Dell'azienda Gli altri Fanno tutt'altro Però si ritrovano Invischiati In un modo o nell'altro Nelle dinamiche Sia economiche Che sociali Che porta la famiglia In sé E questo è molto più interessante È una dimensione Molto più collettiva Ed è forse uno step Che noi Come europei E qui mega generalizzo Dovevamo fare Prima uno step Alla Wall Street E quindi un percorso Con diavoli Che ti desse più La dimensione del personaggio In quello specifico mondo Prima di ampliare Quello specifico mondo Per vedere tutte le dinamiche Che possiamo trovare E non semplicemente Quella dell'uomo Che ce la fa Dell'uomo che va avanti Dell'uomo che lavora In quel mondo là Quindi io proporrei Un ricapitolage Sì Posso aggiungere Però perché Sul discorso di Succession Mi è venuto in mente Che secondo me È proprio il titolo La chiave Nel senso C'è tutti affezioni Alla domanda Al dubbio Che sta avendo il padre E paradossalmente Tu ti metti Nei panni del padre Che è il personaggio Più crudele Malvagio e negativo C'è uno squalo Titano d'industria Che ha schiacciato E rovinato vite Per 40 anni Per costruire questo impero E tu paradossalmente Il punto di vista Che hai Per la maggior parte Del tempo Quasi È il suo Cioè Chi tra questi qui È adatto Alla successione Ma come Lo spin off Del Trono di Spade Non so se l'hai visto Eh Esatto È molto È quello il tema È molto simile Ti metti in quella posizione Di dire Io forse sceglierei lui Per quello No Però aspetta Sale un po' di più La quotazione di quell'altra È un tema molto attuale Effettivamente Cioè adesso A chi va il potere Nel senso Vedi ora c'è stata La cosa della regia Inghilterra Il passaggio Ma in generale Anche un po' di proteste Situazioni di attualità Di cui non parleremo Però in generale Oggi la domanda è A chi va Chi ha il potere Chi se lo merita Chi se lo merita Soprattutto in una prospettiva Famigliare Sì no Tu devi combattere Tu devi prenderti Questo potere Secondo me No ma è molto interessante Soprattutto che ciò accada In un settore Puramente privato Cioè in una cosa In cui tu non avresti Alcun tipo di diritto Pur essendo Il figlio del CEO Cioè non è quello Che ti garantisce Non è una successione monarchica Per cui tu sei il figlio del capo E quindi sei adatto A diventare il capo Ma invece paradossalmente Proprio Ora è così Cioè ora la monarchia Cioè l'oligarchia Che un tempo era la nobiltà È invece nell'industria Esatto Che poi molto spesso Finisce male Perché ovvio che se tu cresci In un ambiente In cui sei già Al top E hai la servitù È quello È ovvio che non hai la fame Cioè se tu ti sei guadagnato Il tuo posto nel mondo Come titano Per Per un tema puramente O comunque in gran parte Meritocratico Di quanto hai fatto tu Quanto è meritocratico Il fatto che Tuo figlio Succede al tuo posto È il tema di Ricci Ricci Il bambino più ricco del mondo Che è uno dei miei film preferiti Anche uno dei miei film preferiti Con il fratello Esatto Con Meccali Con Meccali È quello un gran film Perché ti dice proprio questo Ok Se vivi nella bambagia però Hai comunque Dei problemi Nel senso che Socialmente Vivi nella bambagia Quindi non hai Consapevolezza della realtà E quindi poi in realtà Quando sei un adulto E devi prendere Decisioni importanti Probabilmente Vi ho spoilerato Su Session Che mi sa che finisce Come Ricci Ricci Così è andato Però è verissimo Anche questa distanza Che c'è Fra i due mondi Paradossalmente C'è quella scena Nella grande scommessa In cui Brad Pitt Si ritrova a dover vendere Per i due ragazzi Ed è in vacanza In Inghilterra E quindi Esatto In Scozia In Scozia E c'è lui che dice Che chiama Credit Suisse Che chiama Doge Chiama tutte le grandi banche Avereicane Voglio vendere 10 milioni E ci sono quelli dietro Che stanno vendendo la birra E dicono Da me ne a me 80 milioni E questo ti fa capire Anche un po' La distanza Che abbiamo Tuttora In termini Anche concettuali Fra due mondi Che poi alla fine Ci riguardano da vicino Perché noi viviamo Questa distanza Ma poi quando è crollato Il mercato immobiliare americano Non è che ci hanno rimesso Le banche Ci hanno rimesso Tutti gli altri E questo è Un bel tema Però poi anche Il discorso è anche Che lui dice Vendi 80 milioni Ma lui in realtà Non ha 80 milioni Cioè quello là È tutta una questione I titoli E di debiti E di crediti Cioè non è reale Metti McConaughey Metti McConaughey In Wall Street È tutto un fugazi È quello che dicono All'inizio Di Wall Street All'inizio Di La Grande Scommessa Dicono che Wall Street Usa un linguaggio Che solo loro possono capire Per farti credere Che sono cose Che solo loro possono fare È esattamente Questa cosa qua Cdo Obbligazioni MBS Lo schema di Luis Ranieri Qualunque bando pubblico Tant'è che poi Quando te li spiega Margot Robbie Nella vasca da bagno Li capisci Esatto Questo è anche il grande merito Quando te lo spiegano Nella vasca da bagno Nella vasca da bagno E poi ti dimostra Con la zuppa di pesce No però se devo dire Un sacco di gente Quando parlo di quel film Che è uno dei miei film preferiti Perché Adam McKay Io lo adoro E il montaggio di quel film È straordinario Un sacco di gente Mi dice Non l'ho capito E ci sta In realtà Perché è un film complesso Però gli dico sempre Il riguardo Ma certo Io penso di averlo visto Sette, otto volte Quel film Ogni volta capisci una cosa in più È quasi un documentario Esatto Assolutamente Per quello dicevo all'inizio Che si avvicina molto A un film di inchiesta Secondo me Per questa dimensione qua Questa dimensione educativa Che ha Non tanto su Cosa devi fare tu Ma su come è quel mondo Capire cosa è successo 15 anni fa Non 50 Non 100 Nel 29 Pensare che lui è partito Da Anchorman Capito E che ha fatto un sacco Di commedia incredibili Con Will Ferrell Lui ha fatto I poliziotti di riserva Con Will Ferrell Bellissimo Se non l'avete mai visto Ragazzi I poliziotti di riserva È un capolavoro Esatto Voglio sentirmi parlare Mentre parlo io Perché è un capolavoro Infatti Ferrell Produce Succession Se non sbaglio Veramente Minchi Vedi E sì E sta anche in Zulano Fa un grandissimo ruolo Consiglio Out of Finance Per oggi I poliziotti di riserva Mark Wahlberg E Will Ferrell Poi ha sempre a che fare Un po' vagamente Con la finanza Quello su cui loro indagano Tutta la questione Di fondi della lotteria Cosa manca Cioè cosa vediamo Nel futuro del cinema Che parla della finanza Secondo me è qualcosa Di legato in qualche modo A una grande opportunità Che è la finanza E che è una prospettiva Che la finanza Ha sempre avuto Anche filosoficamente Ma che poi in realtà Nella pratica Non c'è mai stata Ovvero una finanza etica Ma in maniera naturale Cioè che vale Investire in qualcosa Di positivo E di bello Ovviamente Non lo vedremo In un film Perché non fa storia Questo sarebbe meglio Vederlo ai telegiornali Quello chiaro Però ti rilancio Con una provocazione Cioè se questa cosa Non è successa O comunque Non è successa ad oggi Per carità Non escludiamo Che possa succedere Ci auguriamo tutti Che possa succedere Ma il vero problema È che non è successa A seguito del 2008 Perché gli autori Di quel mix Come lo chiama Steve Carrell Nel film Di frode e stupidità Che è stata la crisi Del 2008 Non hanno Non si sono assunti La colpa Di quello che è successo O comunque non interamente Perché sono stati salvati Dai fondi Contribuenti Del popolo americano Ma sì ma quello Non sarebbe Non è quello Che risolve Quello che dico io È che se non hanno Imparato lì Cioè su quella Grandissima Su quel grandissimo Tonfo Che è stato per Tutta l'umanità Non solo da un punto di vista Economico Da un punto di vista Sociale Culturale È difficile immaginarsi Che si possa imparare La speranza certo È l'ultima morire La mia speranza È da Reddit E internet E quindi La possibilità di comunicare Istantaneamente La vera speranza È quella È che l'innovazione Tecnologica Vada anche di fari passo Con quella dimensione Se ci pensi prima Tu per investire In finanza Dovevi andare comunque In banca Da un intermediario Finanziario Adesso tu puoi Cioè ci sono Dei intermediari finanziari Ma sono delle piattaforme Certo E quindi comunque È più democratico Diceva Andrea Poi da qui Poi analizziamo La questione Reddit E andiamo a vedere Quanto effettivamente Poi non sia In realtà democratico Perché poi Alla fine Il braccio di ferro L'hanno perso Ma è inevitabile Quello che è successo Qualche anno fa Appunto che si lega La pratica dello shorting Poi andiamo verso Chiusura e ricortellazione Andreone Ti lascio a te guidare Quello che è successo Nel caso Reddit È che praticamente Dopo la crisi del 2008 Ovviamente lo shorting È diventato Una pratica Molto popolare E che si applicava Anche ad altri settori Nel senso Hanno detto Ha funzionato Sull'industria più solida Della storia Figurati se non funziona Anche di qua Su altre compagnie In declino E quindi nel momento In cui GameStop Noto brand Che è catena Di negozi Di elettronica Con focus sul gaming Stava andando Verso il declino Stava andando Verso il fallimento Tanti Wall Street Bankers E investitori Si sono lanciati A shortare Questa compagnia Dicendo Ok Stiamo scommettendo Su un cavallo Che corre con due gamme Invece di quattro A quel punto La comunità di Reddit E qua secondo me È bello Quello che dicevi tu E come dicevi tu C'è la possibilità Di organizzarci C'è la possibilità Di informarsi E di un'azione collettiva Anche un po' più rapida Cioè senza intermediari Ma prendendo in mano Un po' la questione Si sono organizzati E hanno iniziato A comprare Tramite queste app Di easy trading Delle azioni Di GameStop Riportando In alto il titolo E causando Quello che in termini finanziari È noto come Short squeeze Cioè quando tu hai Una posizione di short Quindi stai scommettendo Forte contro una cosa Sperando che vada male E quella non va male Continua a crescere Continua a crescere Quindi sei costretto A vendere A liquidare La tua scommessa Per limitare i danni Sì o comunque Continuare a pagare Finché non hai ragione Esatto Poi sfortunatamente Insomma Il braccio di ferro Di Wall Street Era talmente forte Che alla fine Sono riusciti comunque Ad affondare il titolo E a quindi Vincerlo allo scommesso Ci hanno perso Un botto di soldi Ma anche quelli di Reddit Io ho un amico Che ci ha perso Un botto di soldi Comunque È stato un momento incredibile Lui mi scrisse Mi disse Oh devi partecipare A questa cosa Dessi Col cazzo Per fortuna Non avevo soldi Però È peso Comunque bello Perché è un esempio Di qualcosa Che nasce su internet E chissà Cosa può portare Cioè comunque È un esempio Di qualcosa Che potrebbe portare A qualcosa di figo In futuro Vai là Ti non dice niente Da troppo tempo Io ho paura No no Ma è bella questa cosa Sono contento Mi piace essere in silenzio Tira le somme Per noi No le somme Beh sì Siamo in chiusura Concludiamo tirando le somme Con un bricolage Con una canzoncina Con una bella canzone Allora beh Secondo me le cose interessanti Che sono uscite oggi sono Uno Come appunto Il cinema Ci ha mostrato Dei cambi sociali Anche implicitamente Quindi come dicevamo prima Da un ecosistema estetico A una vicinanza A una salienza A una figura Come Charlie Sheen A una figura Come Christian Bale Cioè proprio Due diverse idee Di uomo Che può giocare A grandi livelli In finanza Due Come il cinema Si è distaccato Dal sogno americano Nel racconto narrativo Quindi da grandi Soggettività Legate a quell'archetipo Quella struttura narrativa Viaggio dell'eroe Mentore Superamento del mentore Bla 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 Vogler insegna Ha un passaggio invece Ha un Io continuo a ritenerlo Un realismo Ma un realismo Ovviamente iperbolico Ovviamente pop Ovviamente è Ma che in realtà Racconta uno spaccato Che non ha più pretese Di descriverti O prescriverti Cosa sei E cosa non sei Te lo racconto e basta Se vogliamo un po' Come Jim Carrey Nell'ultimo periodo Sono sempre d'accordo Quando fai Lui io utilizzo spesso Per spiegare le cose Questo è un onore Perché è quello In cui ci sono io Dei vostri suoi Dai soggetti Alle coralità Altra cosa interessante In generale Del cinema americano Perché si può fare Anche un ragionamento Poi su Magnolia Di Paul Thomas Anderson Come anche quello È l'esempio Di come il cinema americano Diventa corale Quindi la capacità Di una narrazione Che non coinvolge più Dei singoli Coinvolge dei corali E coinvolgendo dei corali Coinvolgendo un coro di persone Dei coralli Dei coralli Ci permette anche In qualche modo Di vedere Tanti approcci E tante umanità Perché poi lì Nessuno è buono Tutti fanno parte Di quella storia Ma in realtà Sono tutte umanità diverse Questo è interessante Anche per te Il tuo personaggio preferito È Steve Carell Per me per esempio Christian Bane Io adoro Christian Bane In quel film Ma io ti dico anche Ryan Gosling Il mio Ryan Gosling Quando sta in palestra E questo è fisissimo Perché con Charlie Sheen Puoi empatizzare solo Con Charlie Sheen Esatto Invece con tanti personaggi Con la coralità Lo stesso che succede Lo stesso che succede In Succession E questo è interessante Terza cosa invece Proprio quella che esce Con le serie Cioè le serie riportano Una forma di personalismo Perché noi ci riaffezioniamo I personaggi Quindi è un assurdo Iperbole Passiamo da Grandi personalismi Coralità Di nuovo personalismi Alessandro Borghi Protagonista indiscusso Di diavoli Assoluto Però con la dimensione Della serie Che ha un altro spazio E un altro tempo E gioca con dei linguaggi E anche lì è interessante Che le serie Arrivano oggi A essere delle serie Di questo tipo Le sitcom E i polizierschi Esistono da cent'anni Però una serie Che si prende Due tre stagioni Per raccontarti Lo spaccato Da finanza europea Vent'anni fa Era impensabile E questo è molto affascinante E in conclusione L'ultima cosa Che penso Mi sia interessata Di questa puntata Che mi sia piaciuta molto E come in qualche modo L'aspetto Della persona Che oggi Bazzica Il mondo Socio-economico Non è tanto cambiata Nell'aspetto Del percorso Che può fare Nel senso che Effettivamente Il percorso Anche in Charlie Scincera Ma del modo In cui viene percepita Cioè la percezione Che c'è oggi Del pantheon Nella finanza È completamente cambiato Senza fare discorsi Bene e male È semplicemente cambiato E il cinema Lo rappresenta A volte Senza averne coscienza Cioè McKay È un film meraviglioso Che non è scommessa Ma il suo obiettivo Di certo Non era parlare Di quello Che sto parlando Adesso io Perché mi direbbe Ma che cazzo Dici A me non mi frega niente Di quello che hai appena detto Il mio scopo Era raccontare La coralità Di Wall Street Il 2008 Eccetera Però io Nel mio piccolo Ci ho percepito Questa Sottotesto Di una società Che si evolve Cioè se vogliamo fare Il discorso semiotico I segni Che il cinema porta Sono i più facili Immediati Per capire Come la società Si evolve Assolutamente E questo è molto affascinante Vedere in questo mondo Secondo me Anche se appunto Non è lo scopo principale Del film Perché c'è È latente Il cinema specchia La realtà E questo è molto ficco Fammi vedere Fammi vedere Un assegno da 27.000 dollari Io mi licenzio adesso The Wall Street Sì pronto Jerry No io me ne vado Bene Grande scena Quello Veramente meraviglioso John Hill Che accettò Il minimo della paga Il minimo salariale Per la paga Si è preso pure Un pugno in faccia Vero Lo sai che quello Fu un vero pugno in faccia Per lavorare con Scorsese Sì Vabbè ci hanno regalato Un'altra cosa invece Non era vera Ma non diremo cos'è Io prenderò Il pene di John Hill Invece Scorsese Comunque dopo quel film Si è pentito raga Perché Silent È chiaramente un film In cui lui dice Silence Silence È chiaramente un film In cui dice No raga ho sbagliato tutto Meglio In versione Meglio in Monaci In Giappone E poi Ora quello nuovo Pare che anche Sia un po' Una roba anticapitalista Diciamo Quando invece Quello io ripeto Secondo me È un elogio A un mondo Che Fa parte dell'America Effettivamente Poi Non è un elogio Ci sta Lo accetto Effettivamente Grazie Giovanni Senza di te Non so come faremo In questo podcast Veramente Sei fondamentale Fa caldo oggi Grazie 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 Andre Ragazzi Grazie a voi Volevo ringraziare Tutta Arte Settima Estradio Biperbanca Per questo percorso Che abbiamo fatto Come dicevi tu È bello vedere Come il cinema Ti sa raccontare L'evoluzione Il cambiamento Di un'industria Forse anche riduttivo Chiamarla industria Di un Un ecosistema Un ecosistema Che è talmente decisivo Importante Nelle sorti Del nostro mondo Come raccontava Zino Per i riverberi Di quanto Raccontato Dalla grande scommessa E quindi Potersi Avvicinare un po' di più Con la lente di ingrandimento Ed andare a Studiare i vari Cunicoli Di questa storia Mi è piaciuto molto Quindi Grazie Grazie a te Quando vuoi Sei sempre il benvenuto Grazie Zino Invece per la tua Grandissima partecipazione Oggi devo dire Che sembravi quasi tu L'ospito È un tema Di fuoco Mi interessa molto Non comprate azioni Da Zino No Sto attenti a Zino Però no Sì è È un tema molto interessante Secondo me Non tanto per il fatto Che uno ci debba vedere Per forza Uno scopo Un senso Un significato Ma apprezzo molto La capacità di descrivere Di questo tipo di cinema E serialità Soprattutto post Soprattutto post Cioè è stato fatto Un grande lavoro Secondo me Di critica Nel diventare Puramente descrittivi E non etici O moralisti In qualche senso Ma nel dire Guardate che c'è Questa dimensione La realtà Fa parte della nostra realtà Molto più Di quanto pensiamo Molto più Da vicino Di quanto pensiamo Si può definire un genere Il film legato alla finanza Ormai sì Secondo me Per quanto è diventata importante Penso uno carino Di qualche anno fa Che secondo me Appunto Senza troppe pretese Però al suo modo Ti raccontava anche lì Qualcosa interessante Era Panama Papers Madonna che filmone Panama Papers Con Banderas E il buon Sirius Black Eka Commissario Gordon Eka Gary Oldman E tra l'altro Il loro inizio In cui spiegano Cos'è il denaro È stupendo È stupendo Quello da recuperare Per chi non lo conoscete Però poi un po' Si perde Posso dire Poi si perde Un po' Nella sua trama Lì La Coral Italia Ha giocato un brutto scherzo Perché diventa un po' caotica Perché lì è un problema Che è una mia teoria Che quando c'è Meryl Streep In un film Alla fine comunque La storia deve andare Però è il finale di Meryl Streep Che diventa La Statua della Libertà Mattissimo L'ho spoilerato Che spoiler Assurdo Bellissimo Vedete lo stesso Tanto non è un film dallo spoiler Cazzo di finale Bella Grazie a tutti Grazie ragazzi Ci vediamo presto Presto Ciao Ciao